Musica Entro febbraio saranno avviati i restauri della cupola della Cattedrale di Chiavari, l'intervento complessivo del valore di 3 milioni e mezzo di euro è suddiviso in 5 lotti. Lo straordinario del quotidiano, la messa nella seconda domenica del tempo ordinario in onda su Telepace dalla parrocchia dei Santi Gervasio e Protasio a Rapallo, una comunità ricca di storia e tenace nella carità. Raccontare la bellezza della fede, un incontro di formazione e due laboratori per i catechisti della diocesi, un appuntamento riservato ai ragazzi che prestano servizio nelle varie parrocchie. In memoria di Don Gian e in preghiera per l'unità, così si sono ritrovati gli amici del sacerdote a sei anni dalla scomparsa di Monsignor Giancarlo Crovetto, un uomo libero, ha detto Don Mario Moltedo. Avsi propone la campagna Tende 2019. A Chiavari ci sarà la testimonianza delle suore della carità dell'assunzione impegnate nell'assistenza domiciliare gratuita a famiglie e anziani. Musica Benvenuti a Noi Chiesa, la nostra trasmissione dedicata alla vita della diocesi di Chiavari. Questa settimana dedichiamo l'apertura e un'ampia fetta della nostra trasmissione alla cattedrale di Nostra Signora dell'Orto. L'edificio sacro, cuore della vita ecclesiale della nostra diocesi, infatti necessita di un importante lavoro di restauro. In particolare i lavori, il complesso degli interventi sarà suddiviso in cinque lotti che riguarderanno la cupola della Basilica, i due transetti, la navata e il presbiterio. Il primo lotto, quello relativo alla cupola della Basilica, è di imminente realizzazione. Infatti grazie ad una generosa offerta entro il mese di febbraio verranno allestiti i ponteggi interni alla cattedrale. Questo segmento di lavori si concluderà entro la fine dell'anno, ma ascoltiamo tutti i dettagli nel nostro servizio. Possiamo considerare l'intervento che sta per approntarsi all'interno della cattedrale come un intervento storico per questo santuario? Sì, è un intervento storico per il santuario, per quanto interventi a proposito ce ne sono stati anche nei secoli passati. Però certamente è unico nel suo genere perché con attenzione, con strumentazione, con apparati che verranno utilizzati per intervento nella parte interna della cattedrale sarà unico, sarà una volta sola, ma non per quanto ne sappiamo. E perciò sarà una cosa eccezionale, una cosa da documentare, da conservare e da utilizzare via via. Un dato storico, artistico molto significativo. Quindi noi adesso vogliamo fare una cosa che non nasce dal fatto che questo avvenimento sia unico, ma da una necessità urgente che è quella di mettere a posto la chiesa cattedrale perché all'interno ha diverse fallibilità. Dal punto di vista economico sarà un intervento anche molto oneroso. Come state pensando anche di coprire la spesa anche del primo lotto che è ormai imminente? Allora, opportunamente il progetto prevede la divisione in lotti per intervenire all'interno della cattedrale. I lotti sono cinque, cominceremo dal lotto numero uno che è quello corrispondente alla cupola. La cupola è stata toccata a metà degli anni dell'Ottocento in quanto prese fuoco. E da allora non è più stata toccata tranne interventi al tetto, cioè esterni, negli anni 90, quando era ancora parroco Monsignor Cavallero. Quindi noi cominceremo da quella parte lì. Quella parte lì che anche in sé è sostanziosa sia dal punto di vista dei costi che anche della delicatezza dell'intervento. Il costo di questo intervento è di 440-50 IVA compresa, cifra che è stata erogata dal Cavaliere Arvedi, proprietario della cerie Arinox e altre, che con estrema generosità e sensibilità religiosa e anche artistica e di cura dei beni del nostro paese, essendo lui in qualche modo, avendolo in qualche modo rapporto con il nostro territorio, ha voluto farci questo dono e noi di questo lo ringraziamo tantissimo. E poi tutti gli altri lotti che verranno fatti cammin facendo. Per fare questo abbiamo cercato, e cerchiamo ancora, alcuni soggetti che siano in grado di intervenire. Ci sono due ordini diciamo di aiuti, alcuni soggetti diciamo imprese forti dal punto di vista o relativamente tali dal punto di vista economico e alcuni soggetti privati che possono essere altrettanto forti ma sono privati. Per tutte e due queste modalità c'è la possibilità della deducibilità, quindi noi possiamo rilasciare documentazioni che permettano questa facilitazione. Abbiamo, come dicevo, identificato altri soggetti con cui siamo in contatto e di cui aspettiamo risposte volta per volta. La stessa cosa vale per i privati. Poi al di fuori di quello che noi conosciamo, ogni intervento in merito è evidentemente gradito ed è un modo attraverso cui si può anche, si rende migliore la nostra città sia dal punto di vista dell'esperienza di devozione e di religiosità alla Madonna dell'Orto sia dal punto di vista sociale, civile, artistico, architettonico come un bene della città che viene restituito ad essa. Come sarà articolato il restauro che avverrà all'interno della Cattedrale di Chiaveri? Da prima verrà montata un'impalcatura, un sistema di ponteggio a piramide fino a coprire tutta la superficie della cupola che durerà circa un mese, ragionevolmente, nel mese di febbraio. E poi partirà il lavoro vero e proprio di restauro, di recupero artistico della cupola che consisterà appunto nel riprendere i decori presenti a rilievo oppure pittorici che hanno subito lesioni dalle infiltrazioni degli anni scorsi. Quindi presumiamo che questo primo lotto di intervento, che è quello che abbiamo ipotizzato potersi svolgere nell'anno entrante, dovrebbe concludersi entro al fine dell'anno. Questo è il primo di cinque lotti complessivi che rigorderanno quali parti della cattedrale? Il progetto prevede il recupero di tutto l'apparato decorativo della cattedrale. I cinque lotti appunto prevedono la cupola, i transetti laterali e il presbiterio che sono quelli che se avete presente hanno delle reti di protezione che da un po' di tempo sono installate. Quindi questi sono i primi tre lotti e poi ci sarebbero le navate e i retrostanti. Ovviamente tutto è legato ai canali di finanziamento che si spera potranno arrivare. Come si interverrà in questo primo lotto quello che riguarda la cupola della cattedrale? Sì, la cupola della cattedrale ha dei problemi di conservazione determinati dalla presenza di umidità. In passato ci sono state infiltrazioni dalle coperture, attualmente pare risolte, che hanno compromesso in parte quello che è l'apparato decorativo. Pertanto l'intervento sarà sostanzialmente un intervento di bonifica e di consolidamento, pulitura e di ripristino di quello che è l'apparato decorativo affinché possa non essere soggetto a fenomeni di distacco, di degrado e di disgregazione come potrebbe esserlo nel momento in cui l'umidità continua la sua azione. Voi avete fatto uno studio complessivo di tutto l'interno della cattedrale. Che cosa avete rilevato in questa analisi che è stata fatta? Sostanzialmente la cattedrale ha problemi di analoga natura in tutte le sue parti perché, come tutti gli edifici storici, se il manto di copertura ha nel tempo dei problemi, le infiltrazioni possono determinare quello che è un deterioramento degli intonaci, degli apparati decorativi. Altrettanto comune è la problematica di umidità, di risalita per capillarità che va, d'altro canto, a intaccare quelle che sono le porzioni basamentali degli intonaci, a rovinare quelli che sono gli stucchi e i marmi alla base. Anche su questo speriamo di riuscire a intervenire inserendo qualche dispositivo di dissuasione di risalita per capillarità in modo da risanare l'edificio sia dalla base che dall'alto. Si tratta di un intervento complesso? Sì, l'intervento è abbastanza complesso, non tanto per qualità delle opere che sono opere, come dico, abbastanza comuni in questo tipo di edifici che nel corso degli anni ovviamente manifestano un naturale invecchiamento oltre che un degrado funzionale a quelle che sono le condizioni al contorno, ma per le superfici che sono consistenti e per la presenza di materiali diversi. Si va dagli intonaci ai decorati, ai marmi, alle dorature, quindi c'è una molteplicità di materiali che comporta e richiede tecniche di intervento differenti per cui è un intervento che ha una sua complessità. Nel mese in cui verranno allestiti i ponteggi per la cupola, la chiesa cattedrale rimarrà chiusa nei giorni feriali. Come pensate di offrire ugualmente uno spazio per la preghiera ai fedeli? Sì, dal lunedì al veredì la chiesa è chiusa e in alternativa, come possibilità di offerta di spazio di preghiera, viene proposta la cappella del seminario che è accanto alla chiesa cattedrale. Quindi tutte le celebrazioni per il mese in cui ci saranno i lavori di impianto del ponteggio viene chiusa, rimane aperta il sabato e la domenica per le funzioni festive domenicali e nel momento in cui il ponteggio viene installato definitivamente allora si riprende l'utilizzo della chiesa cattedrale perché il tipo di intervento che verrà fatto non disturba, non fastidisce la possibilità della preghiera, del sacramento dell'eucaristia e quindi si può utilizzarlo con tutta tranquillità. Gli orari saranno gli stessi e i sacerdoti saranno sempre a disposizione? Sì, orari e i sacerdoti saranno sempre a disposizione. Per le confessioni, il mese della chiusura vengono fatte sempre nella cappella del seminario in un locale apposito dai coi sacerdoti che sono già previsti nel servizio confessioni. All'inizio del tempo ordinario la liturgia domenicale ha invitato a meditare il Vangelo delle Nozze di Cana è iniziato così un tempo significativo proprio nella sua ordinarietà è questa la riflessione che ha condotto domenica scorsa in occasione della liturgia domenicale Don Stefano Curotto, parroco della Basilica dei Santi Gervasio e Protasio a Rapallo in questo modo, proprio in questa domenica è ricominciato un servizio offerto da Telepace a tutti i suoi telespettatori quello cioè della ripresa, della messa in diretta da diverse comunità parrocchiali del nostro territorio per quest'anno dunque il primo appuntamento è stato proprio quello con Rapallo è stata l'occasione per conoscere più da vicino la vita di questa comunità ricchissima di storia e anche tenace nella carità ascoltiamo le interviste realizzate da Roberto Costa Siamo nella seconda settimana del Tempo Ordinario che per me è un tempo prezioso nel senso che dopo aver celebrato solennemente gli avvenimenti della vita, della nostra fede il Tempo Ordinario per me è un po' il dire li mettiamo in pratica, li viviamo danno il gusto alla nostra vita Come facciamo noi a trasformare l'acqua in vino? Ma diciamo che noi collaboriamo chi la trasforma è Gesù quindi noi collaboriamo come hanno fatto i servi nel Vangelo hanno fatto ciò che lui gli ha detto quindi si sono fidati ecco e quindi sta a noi come dire fare la nostra parte che in questo caso era per i servi portare l'acqua in altri casi dare quei panni quei pesci che a volte chiede per moltiplicarli quindi metterci cioè come dire condividere quello che siamo e condividere con fiducia con il Signore obbedendo a quello che in qualche modo la sua parola fa risuonare in noi ecco nelle nostre scelte nella nostra vita Ecco il Vangelo parlava delle nozze di cana Sì, parlava di queste nozze di cana che sono nozze quindi parla di un ambiente come dire coniugale di un amore per tutta la vita un amore che innanzitutto è quello di Dio per l'umanità di colui che dà la vita per l'umanità ed è appunto l'ambiente sacro e profano insieme avrebbe da dire si celebra l'ambiente profano che è la vita la celebrazione della vita familiare ma in questo c'è tanto di sacro c'è tutto di sacro Per finire Don Stefano la vita alla domenica mattina qua in Basilica è sempre molto partecipata e movimentata Devo dire, mi pare di sì io sono contento ecco in generale della partecipazione il che non vuol dire che Vi annoiate? No, no, no la domenica mattina non ci annoiamo in generale neanche negli altri giorni però certo uno sguardo attento come evolve la presenza la partecipazione quello ci vuole perché ci sono dei cambiamenti ecco in atto Che cosa dice il Vangelo di oggi ai giovani? Ma quello che io un po' nella mia meditazione ho pensato è che il Signore attraverso l'acqua che diventa vino ci consegna quella gioia partendo proprio anche dai nostri peccati dalle nostre imperfezioni dai nostri limiti perché le amfore che sono le giare che sono usate per contenere l'acqua sono le giare della purificazione quindi sono quelle giare che sono considerate un po' impure per gli ebrei dell'epoca ecco il Signore prende da dell'acqua impura per far diventare il vino della gioia ecco quello che sento è proprio questo che il Signore dice non frenarti i tuoi errori non determinino la tua vita io sono qua per per cambiarla per portare quella gioia quella bellezza che altrimenti forse non riusciresti a trovare ed è questa la prima cosa che sento e poi essendo anche un po' dentro una parrocchia mariana la nostra legata a Montallegro è che veramente per avere la gioia la gioia piena con Maria ci viene in soccorso ci prende per mano e ci insegna che per essere veramente felici occorre essere discepoli del suo figlio la tua vita in parrocchia è il tuo impegno? l'impegno è tanto ed è per quello che posso ecco nelle mie le mie povertà soprattutto legato ai giovani al catechismo ma anche un po' allo stare perché questa parrocchia è una parrocchia centrale dove passa tanta gente quindi anche ascoltare raccogliere anche un po' le fatiche e le ferite delle persone ma l'impegno preminente è quello legato ai giovani con il catechismo sono quasi 500 i bambini che dalla comunità dei figli accolti alla comunità dei discepoli chiamano quindi prima elementare terza media riempiono casa della gioventù ogni settimana e poi legato anche alla comunità di Sant'Anna il percorso del post-cresima dei giovani che fate insieme che facciamo insieme ormai già da tanti anni è un'esperienza bella ecco di comunione in cui si cerca sempre di trovare anche nuove vie per per portare un po' un messaggio di freschezza e di bellezza ai ai nostri ragazzi aggiungo soltanto sul catechismo che da qualche anno soprattutto dall'anno scorso abbiamo implementato l'oratorio con tre giorni a settimana in cui lasciamo casa gioventù aperta per chi crede per chi non crede per chi viene a catechismo per chi non viene a catechismo per comunque tutti i ragazzi i bambini i giovani che vogliono togliersi un po' dalla un tempo si diceva dalla strada oggi direi dal un po' rimbambirsi davanti ai vari smartphone o tablet per passare un po' di tempo di laboratori e di calcio e di gioco insieme questo è sempre molto importante questo credo che sia fondamentale oggigiorno credo che sia fondamentale proprio andare incontro a queste esigenze di un luogo che possa aggregare portando dei valori diversi rispetto a quelli che il tempo di oggi purtroppo ci dà che sono un po' quei valori di ripiegarsi su noi stessi un po' di chiudersi un po' di obnubilarsi davanti a un qualcosa che ti crede di essere in socialità invece sei sempre più solo questo è un impegno importante al giorno d'oggi che appunto facilmente scrivono si scrive ma è difficile a volte in un saluto guardarci negli occhi è difficile ed è difficile per noi farlo capire perché comunque il tempo che abbiamo è sempre un tempo risicato e se oggi come oggi si parla di nativi digitali cioè ossia di bambini e ragazzi che insieme al biberon gli viene dato anche uno strumento tecnologico credo che forse veramente la sfida di oggi lo dico anche da insegnante è quella di trovare altri mezzi altri strumenti di provocare i ragazzi a capire e a gustare la vera bellezza che è appunto lo stare insieme agli altri il guardarsi negli occhi il capire che c'è una verità che va oltre la virtualità signor Giuseppe sono tantissimi anni che lei fa parte del consiglio degli affari economici sono 36 anni sono venuto che c'era Don Daneri per tre anni con lui poi è mancato poverino poi Don Amandolesi poi 18 anni è mancato anche lui poi con Don Lelio anche lui 14 anni adesso sono con Corotto da tre anni circa due o tre anni ha visto tante cose ha visto parecchie cose sì insomma c'è stato un incidente quando era caduta la cupola quando era caduta la cupola è la più che è andata bene che non non ci è rimasto nessuno perché è venuta giù di notte alcuni calcinaci e invece quando sono entrato io ero indietro a fare il campanile a rinnovare il campanile un po' la cupola e cosa però l'incidente più cosa è stato quello che è andata bene che non c'era nessun sferito siete subito intervenuti subito è venuta la ditta di sanguinetti di Chiavri a mettere una rete molto fitta tutta tesa e poi si è fatto i lavori tutti i punteggiamenti e le riparazioni bene allora cosa auguriamo le nuove leve che sono nei vari consigli che continuino sempre così anzi con entusiasmo che ci ho avuto io fino adesso Vittoriano qual è il suo impegno? il mio impegno è aiutare alla parrocchia e dare una mano cioè cercare di non solo qua mi hanno detto anche su a Montalegro cioè do una mano anche a Montalegro infatti faccio parte anche di Montalegro della fabbriceria di Montalegro cioè una volta alla settimana vado su delle volte anche due volte per dare una mano al santuario e do una mano anche in parrocchia dato che sono andato in pensione e do una mano cioè il mio tempo libero cerco di dare questa mano ecco gli impegni non mancano? no non mancano perché dal mattino io qui sono già qui alle 6 che apro faccio i miei lavoretti siccome dicono che il mattino ha loro un bocca io sfrutto il mattino per fare tutti i miei lavori e poi se c'è funerali altre cose è una parrocchia impegnativa però io lo faccio volentieri è come fosse casa mia sono tanti anni che sei qua sono 30 anni con gennaio di quest'anno sono 30 anni esatti che sono qui in parrocchia e già venivo volontario con Don Daneri anche a Montalegro il suo impegno per la mensa qual è? allora il mio impegno per la mensa è innanzitutto il martedì pomeriggio che svolgo il mio volontariato e poi mi occupo sia del magazzino che gestire un po' i volontari nei vari turni magari qualcuno può mancare delle esigenze bisogna trovare una sostituzione ecco questa è un po' la mia attività però quella poi principalmente è quella di stare a contatto con i nostri ospiti che sono per la maggior parte senza fissa di mura abbiamo tutte le sere 32 persone per noi sono ospiti infatti la mensa è denominata il cenacolo proprio per dare quel senso di famiglia di accoglienza ed è un'esperienza veramente molto forte perché poi da queste persone effettivamente c'è da imparare tanto ecco voi fate la cena ogni giorno sì 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 solo cena praticamente serviamo alle 18 e 15 serviamo il primo il secondo frutta contorno è così ecco come riuscite a preparare e a trovare soprattutto le risorse allora una parte ci viene data dalla dalla GEA che è la comunità economica europea a cui noi siamo affiliati e una maggior parte del derrade arrivano da questa fonte poi devo dire la verità c'è molta sensibilità da parte della comunità tipo un po' di mesi fa abbiamo gesso dell'olio dei pelati e praticamente siamo stati innodati insomma c'è molta sensibilità insomma ecco parlava di una trentina di ospiti e invece voi volontari quanti in siete? i volontari siamo una trentina tenga conto che praticamente noi calcoliamo 11.000 passi all'anno che serviamo perché siamo chiudiamo 15-20 giorni in un anno ma poi la maggior parte dell'anno siamo sempre aperti anzi ad agosto mentre le altre mezze giudono noi siamo aperti dunque un bel impegno un bel servizio eh sì certamente un impegno molto forte che ti aiuta a me personalmente a crescere nella propria fede ecco chi volesse darvi una mano dove può arrecarsi? ma ben volentieri innanzitutto si possono rivolgere a Do Stefano e normalmente poi Do Stefano ci passa il numero di telefoni insomma la generità della persona e niente poi l'accogliamo può decidere in qualsiasi giorno di venire? nel corso del mese di febbraio nella nostra diocesi si svolgerà il percorso di formazione dei catechisti sono tre gli appuntamenti previsti il primo sarà venerdì primo febbraio alle 20.45 nel salone di Casa Marchesani a Chiavari sarà un momento di ascolto di Don Giuliano Zanchi che ha completato la licenza di teologia fondamentale alla facoltà teologica dell'Italia settentrionale ed è direttore del museo diocesano di Bergamo il tema che sarà affrontato è oggi ti racconto Gesù a questo appuntamento ne seguiranno altri due con un carattere più propriamente di laboratorio il primo sarà venerdì 8 febbraio dunque a una settimana esatta dal primo incontro e si terrà nuovamente a Chiavari ma questa volta nella parrocchia di San Giovanni Battista al centro opere sociali l'appuntamento è sempre di sera alle 20.45 il cuore della serata sarà un laboratorio sul tema come ti racconto Gesù successivamente venerdì 22 febbraio alle 19.30 alla Casa della Gioventù di Rapallo ci sarà un secondo momento di laboratorio questa volta rivolto più propriamente ai giovani catechisti che svolgono il loro servizio nelle comunità della nostra diocesi alle 19.30 ci sarà la cena seguirà il laboratorio il cui tema sarà i giovani raccontano Gesù abbiamo intervistato il direttore dell'ufficio catechistico diocesano sentiamo formazione per i catechisti della nostra diocesi un appuntamento comunitario e altri di laboratorio iniziamo da quello comunitario un momento che sarà prettamente di ascolto venerdì 1 febbraio sì quest'anno abbiamo voluto un po' cambiare non tanto per cambiare ma perché ci sembrava un'esigenza dei catechisti che sentivamo dagli anni scorsi che facevamo solo un convegno una domenica pomeriggio quello che forse la domenica pomeriggio è solo ristetti un'ora e mezza due forse impedisse un po' anche il confronto anche l'ascolto tranquillo allora abbiamo provato è un esperimento abbiamo provato anni fa l'avevamo già fatto quello di fare qualche incontro il venerdì sera e riproponiamo con un primo incontro con Don Giuliano Zanchi che anche attualmente è molto attivo anche come scrittura come libri e così e lui avendo studiato teologia fondamentale ma essendo anche direttore del Museo Diocesano di Bergamo mette insieme il momento attuale della Chiesa e la bellezza da raggiungere dentro il nostro essere Chiesa dentro il nostro essere fede e a me aveva colpito un articolo che aveva scritto in estate proprio sul fare catechesi il catechismo oggi dove ammette le difficoltà però mi era piaciuto e ci era piaciuto anche come catechisti perché non era solo lamentare i problemi ma avere uno sguardo sul futuro ecco su passi percorribili c'è una bellezza nell'annuncio cristiano che occorre recuperare su cui occorre investire esatto infatti anche il titolo è ti racconto Gesù oggi la bellezza proprio di questo incontro con la persona di Gesù e sullo stile del racconto non della scuola non della nozione non del sapere la cosa pur mantenendo il fatto che è anche dottrina ma è dottrina la persona di Gesù insegna la persona di Gesù la preghiera nasce per esempio anche il Padre Nostro la preghiera che è una preghiera istituzionale l'unica di Gesù però nasce dalla curiosità dei discepoli che vedono Gesù pregare da quella bellezza lì è un po' questo quello che vogliamo provare a trasmettere e su cui confrontarci con i catechisti poi due momenti di laboratorio perché l'equipe catechistica diocesana ha sentito questa urgenza ha pensato di introdurre questi appuntamenti il primo quello dell'otto febbraio è anche il titolo è passare dal ti racconto Gesù oggi a come ti racconto Gesù cioè abbiamo voluto siccome dicevamo prima che a volte i tempi erano ristretti abbiamo provato a chiedere ai catechisti un'altra serata dove non c'è ascolto ma dove c'è un lavorare un noi ci vedremo come equipe catechistica tra i due incontri per provare sulla base quello che abbiamo ascoltato un laboratorio proprio che possa approfondire forse anche porre qualche passo concreto da fare nelle nostre parocchie il secondo quello del 22 febbraio invece è un po' una novità è solo dedicato ai giovani catechisti dai 15 ai 25 anni perché volevamo un tempo dedicato a loro a volte nei conveni quello un po' più di adulti ma è normale così senza voler giudicare nessuno però i catechisti più adulti anziani hanno voglia di spazio di parlare il giovane è un po' più timido allora abbiamo provato a dedicare un tempo solo per loro anticipato da un momento fraterno con la cena insieme e poi senza ascolti però subito a divisione in gruppetti dove loro siano protagonisti e ci raccontino perché fanno il catechismo perché hanno fatto la scelta da giovani e un po' che ci raccontino nei gruppetti come lo fanno si sentono protagonisti vorrebbero qualcosa di più un tempo dedicato a loro è importante anche il confronto alla relazione fra catechisti dei vari territori delle varie parrocchie questo può aiutare a crescere esatto ci siamo chiesti se fare comunque invitare i giovani insieme però questo è un primo passo volevamo conoscerli e sentire da loro la loro voce poi nel proseguo ci piacerebbe anche che diventi una ricchezza uno scambio non solo il catechista adulto da una parte e il giovane dall'altra ma che ci sia uno scambio reciproco dei doni che in maniera diversa però tutte e due categorie hanno venerdì 25 gennaio si conclude la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani nel cuore della settimana ecumenica sei anni fa morì Monsignor Giancarlo Crovetto che all'epoca era proprio il referente diocesano per l'ecumenismo ogni anno nel giorno della sua partenza per il cielo ovvero il 22 di gennaio gli amici di Don Gian così come lo chiamavano tutti si ritrovano nella cappella maggiore del seminario per celebrare assieme l'eucarestia in suo suffragio e in suffragio di tanti altri sacerdoti e laici che sono stati fratelli maggiori e padri nella fede di tante persone quest'anno la celebrazione dell'eucarestia è stata presieduta da Don Mario Moltedo che ha tracciato un ricordo di Don Gian come quello di un uomo libero sentiamo era un uomo libero Monsignor Giancarlo Crovetto conosciuto da tutti come Don Gian libero come lo era Gesù lo ha sottolineato Don Mario Moltedo celebrando l'eucarestia nella cappella maggiore del seminario vescovile con gli amici del sacerdote morto il 22 gennaio del 2013 all'età di 72 anni da allora ogni anno gli amici di Don Gian si ritrovano per la celebrazione della messa in suo ricordo e nella memoria di tanti altri sacerdoti che sono stati maestri amici e padri nella fede per moltissime persone Don Mario nell'Omelia ha preso spunto dal brano del Vangelo nel quale Gesù dice il sabato è stato fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato e ha ricordato che la libertà di Gesù nasce dalla consapevolezza del fatto che il vero bene dell'uomo viene prima di qualunque altra cosa di qualunque regola di qualunque legge anche religiosa come lo era quella del riposo festivo è la libertà che Papa Francesco testimonia come una piacevole sorpresa dal primo giorno del suo pontificato ed era anche la libertà di Don Gian che non era un uomo rigido dogmatico legato alle forme e agli schemi ma era un prete duttile misericordioso attento alla persona prima che alla dottrina un uomo libero come lo era Gesù come tutte le persone che si ispirano a Gesù e al suo Vangelo è la libertà che vorremmo avere sempre anche noi ha sottolineato il sacerdote una libertà che nasce come dono di Dio dalla fedeltà ad una gerarchia di valori che mette davanti a tutto il bene dell'uomo e così onorando la persona onora davvero Dio la celebrazione eucaristica non è stata solo una occasione di memoria ma anche di preghiera per l'unità di tutti i cristiani Don Gian teologo finissimo delegato diocesano per l'ecumenismo morì nel cuore della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani di cui l'invito mutuato dalla liturgia a farsi imitatori di coloro che sono eredi delle promesse fare memoria per diventare imitatori di chi ci ha preceduto imparare dalla fede dalla costanza e dalla fedeltà al Vangelo testimoniata nella vita Nell'intera giornata di sabato dalle 10 alle 18 in piazza Matteotti a Chiavari sarà allestito un banchetto da alcuni sostenitori della rete di AVSI associazione volontari per il servizio internazionale questa associazione tutti gli anni propone diversi progetti di cooperazione allo sviluppo in alcune realtà del mondo ma anche in Italia volti proprio a sostenere realtà in difficoltà e l'obiettivo è quello di una grande campagna di raccolta fondi che viene svolta dalla rete dei sostenitori in tutta Italia proprio per sostenere economicamente questi progetti a Chiavari come detto il banchetto si terrà in piazza Matteotti nell'arco del pomeriggio ci sarà anche la distribuzione di cioccolata calda e un po' di intrattenimento per i bambini ma alle 18.30 alla società economica ci sarà l'incontro con alcune suore della carità dell'assunzione conosciute da tutti come le suorine del Martinengo una congregazione religiosa nata in Francia che si occupa di assistenza domiciliare gratuita per persone in difficoltà sentiamo sotto lo stesso cielo è il titolo della campagna tende di Avsi per il 2019 ogni anno l'associazione volontari per il servizio internazionale che opera in 31 paesi del mondo con progetti di cooperazione allo sviluppo promuove una raccolta fondi attraverso la sua rete di sostenitori indirizzando le risorse raccolte verso alcuni luoghi specifici per l'edizione 2019 sono stati scelti i progetti di avvio al lavoro in Burundi e Kenya per l'accoglienza di migranti venezuelani in Brasile per offrire cure gratuite in Siria e per quel che riguarda l'Italia per sostenere il lavoro delle suore della carità dell'assunzione una congregazione religiosa nata in Francia e oggi presente in diverse grandi città italiane con case nei quartieri periferici e un piccolo nugolo di suore impegnate ad assistere nelle case famiglie in difficoltà come a Torino nel quartiere di Borgo Vittoria da dove viene Michele 27 anni oggi infermiere attraverso la loro carità entrano nelle case di ognuno perché la loro prerogativa è di cercare di rispondere al bisogno della persona attraverso infinità di modi dal aiutarli a sistemare la casa a farli da mangiare piuttosto che tenere bambini e i figli quando non c'è la possibilità di portarli da un'altra parte o di andarli a prendere a scuola e infatti aiutano anche i bambini e i ragazzi più grandi nello studio oppure rispondono al bisogno di cure perché ci sono molte persone malate e alcune di loro sono infermiere e quindi erogano un'assistenza infermieristica domiciliare che cosa ti colpiva di loro guardandole quando eri bambino quello che mi colpiva era principalmente il loro sguardo che avevano verso le persone che le guardavano come erano senza pregiudizi senza avere troppi pensieri e rispondevano ai loro bisogni in modo totalmente gratuito e senza volere niente indietro ti ha aiutato a diventare grande a diventare uomo l'amicizia con le suorine assolutamente sì devo dire che sia dal punto di vista umano che professionale perché sono infermiere mi ha aiutato molto anche il loro rapporto e la loro storia a Chiavari ci sarà la possibilità di sostenere le suorine così come le chiamano tutti nell'arco dell'intera giornata di sabato alle 18.30 nei locali della società economica sarà possibile ascoltare la loro testimonianza diretta sia al mattino che al pomeriggio però in piazza Matteotti ci sarà un banchetto che offrirà informazioni e raccoglierà le offerte nel pomeriggio musica cioccolata e intrattenimento per i bambini azione cattolica padri vincenziani movimento ecclesiale di impegno culturale e società san vincenzo de paoli organizzano sabato mattina dalle 9 alle 13 alla sala quadrivium di genova un convegno dedicato ad approfondire la spiritualità la cultura e l'impegno sociale del venerabile giorgio lapira alla luce della sua fede cristiana relatori del convegno padre luigi nuovo il professor luigi baldi e l'architetto giuseppe milanesi parteciperà con una testimonianza mario primicerio presidente della fondazione giorgio lapira domenica si rinnova l'appuntamento con la festa della pace organizzata dall'azione cattolica ragazzi nella nostra diocesi l'appuntamento alle 10 nei locali del seminario vescovile alle 12 ci si sposterà nella chiesa di san giovanni battista a chiavari per la celebrazione dell'eucarestia la giornata proseguirà poi con il pranzo al sacco e la ripresa delle attività che si concluderanno attorno alle 16 terminiamo così il nostro appuntamento settimanale con noi chiesa al nostro viaggio alla scoperta della vita della diocesi di chiavari grazie per averci seguito ci rivediamo la prossima settimana grazie a tutti Grazie a tutti.